buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione oggi risponderò ad un signore che sta utilizzando gli mp3 dcs di auto ipnosi dcs vera e professionale il quale mi chiedeva dottore li ascolto però bla 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 oppure anche un altro signore si però graffia non si sente bene eccetera eccetera allora io faccio notare che i miei audio mp3 dcs quello che li contraddistingue rispetto a tutto quello che vedete in giro è la potenza delle suggestioni i fatti che riuscirete ad ottenere se li utilizzate seguite le istruzioni alla lettera a prova di non a prova di pigro a prova di idiota ok per cui non badate non dovete concentrarvi sul discorso qualità audio e sottofondi e compagnia bella perché non sono audio mp3 musicali non sono audio mp3 di canzoni non sono audio tra virgolette su cui concentrarsi o ascoltare ecco perché non non si utilizzano gli auricolari ragazzi poi se uno li regge vuole metterli ben venga sono fatti i suoi ma io consiglio di non utilizzarli perché niente nessuno devono disturbare il tuo rilassamento profondo tu devi soltanto rilassarti non concentrarti sulle mie parole sulle mie suggestioni dicesse molto potenti altamente professionali devi soltanto rilassarti e seguire le istruzioni ripeto alla lettera non ascoltare io parlo al tuo subcosciente non parlo alla tua coscienza la tua critica la tua logica al 12 per cento della tua mente che mette tutto in dubbio che critica io parlo al tuo pilota automatico al tuo genio della lampada di aladino ok per cui quando metti premi play non pensare rilassati dormi pensa ad altro fai quello che c'è scritto nelle istruzioni e poi giudica ci sono persone che in un anno secondo risolvono il loro problema altri ci mettono in media una trentina di giorni altri rarissimi ancora di più per cui siccome il mio metodo metodo dcs non ti ruba tempo non ruba tempo né a te né ai tuoi cari si può utilizzare anche su chi non vuole anche contro la sua volontà però ricordati sempre a fin di bene e non contro ok perché molti non vogliono essere aiutati come tuo figlio che sta sempre buttato nel letto magari alcolizzato depresso impaurito dalla vita un'ansia sociale eccetera eccetera perché pieno di sensi di colpa che purtroppo te o chi per te vittima di altre vittime perché quando eravate piccolini anche voi avete subito da vittime di altre vittime che sono i nostri genitori oggi c'è il terzo genitore che è la tv quindi che succede si vogliono punire perché sono pieni di sensi di colpa sono pieni di sensi di colpa e senso di colpa significa uguale punizione che te la dà tua padre tua madre quando sei piccola ma quando sei grande te la dai da solo inconsciamente perché se glielo dici alla ragione alla logica alla razionalità ti mandano a quel paese ci mancherebbe come ad uno che è grasso grosso uno che alcolizzato gli vai a dire sì ma tu il tuo subcosciente non vuoi dimagrire non vuoi smettere di fare lui dimanda a quel paese perché pensa che è più forte di lui che lui che non è lui capito quindi non credere a nessuna parola del sottoscritto segui soltanto i fatti prova e poi mi dirai però funziona ragazzi funziona ed il sottoscritto in primis ha approvato questa grande arte metodo di css di ipnosi di css vera e professionale da los angeles beverly hills io le ho vissute tutte sulla mia pelle le ho vissute le provo da più di dieci anni diciamo circa dodici anni a sta parte dal 2008 per cui le opere d'arte della dottoressa rina brunini del professor michael angel garai miei associati mentori maestri eccetera 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 di los angeles beverly hills le ho esperite sperimentate prima su di me nel 2008 su mio padre su una parte dei miei cari e su centinaia e centinaia di persone in nel mondo per cui ti sta parlando un mentore funziona e non esiste nulla di paragonabile né nello yoga nella meditazione nel mantra nella ipnosi conformista e commerciale salvando nella bontà anche di milton erickson di brian ways di deve elman non esiste nulla al confronto di questi due grandi professionisti dell'ipnosi vera professionale di los angeles famosi in america latina hollywood e a los angeles che hanno aiutato migliaia di persone bisognose anche molte star hollywoodiane ok e poi ripeto io l'ho visto su di me io sono di estrazione santomasiana come santomaso se non vedo se non tocco non credo ti posso garantire che non c'è nulla di paragonabile poi il metodo dei miei mentori di los angeles è stato integrato dalle mie esperienze personali di più di dieci anni diciamo di dodici anni a sta parte per cui un qualcosa di veramente esperito provato sul mio corpo sulla mia mente in ogni dove in ogni come su centinaia e centinaia di persone ti posso garantire che se ci ho messo dieci anni a mettermi davanti a questi schermi è perché ci credo ci credo ci credo e voglio darti una mano ok per cui prova questi mp3 audio veramente potenti unici al mondo ma soprattutto come metodo perché non devi mettere la famosa tuta andare in giro non devi girare cappelle a perdere minimo due tre ore andare in palestra a farti la doccia tornare lavora per obiettivi non lavora per rilassarti a si sono andato a quel guru di hong kong di parigi che utilizzava l'ipnosi di milton erickson mi sono sentito rilassato poi gli ho detto ma tu hai risolto il problema della sigaretta hai risolto il problema del dolore cronico no ma beh ma detto allora qui si parla di fatti di risultati ok non parliamo di tentativi come parlano i guru là fuori qui parliamo di fatti e risultati perché la tua mente può fare il miracolo della tua stessa mente come ripeto spesso nei miei live ok quindi niente prova non pensare alla qualità penso soltanto a rilassarti e pensa ai fatti poi ci puoi mettere un secondo un mese due mesi dici mesi otto mesi non è importante perché di fatto tu non impegni tempo con il mio metodo ok adesso mi stai chiedendo come vai perché per come perché non impegni il tuo tempo tu premi play e chi si è visto visto sono potenti suggestioni che parlano al tuo pilota automatico non devi seguire montagne scendere ruscelli nulla di nulla di nulla funziona ok fammi tutte le domande del caso se hai dubbi a me fa piacere confrontarmi attenzione anche i signori che mi hanno scritto gratta e magari c'è stato sicuramente perché il signore non è che si divertiva un problema tecnico quando arrivano questi casi veramente gravi tecnicamente parlando ci mancherebbe altro infatti abbiamo mandato la versione il tecnico l'ingegnere che cura il sito sicuramente avrà zippato ridotto io sono un po ignorante in materia digitale questi file per cui sono arrivati un po non tanto bene però l'importante è bene quello che finisce bene io ho voluto fare questo video per sottolineare il fatto che non bisogna che non bisogna considerare gli audio mp3 dcs come audio musicali perché non hanno nulla a che vedere che sono audio che ti risolvono il tuo problema e ogni audio risolve un problema alla volta tu puoi metterlo più di uno insieme e farli girare insieme ci metti più tempo ma funzionano nello stesso modo ok poi mi scrivi ti dirò come fare se magari ne hai comprati 4 5 10 perché anche lì c'è un metodo per assorbire sempre di più le suggestioni di cesse potentissime di autipnosi dcs vera e professionale unica al mondo non esiste pari te lo posso garantire e io sono partito da ipnotista autodidatta più di vent'anni fa ipnotizzavo sulle spiagge si facevano la risatina mi interessava che continuavo a camminare sulle acque perché avevo visto gli effetti su di me su tanta gente ai ristoranti per le strade gruppi di 10 20 persone sulle spiagge al mare quando uno ci crede ragazzi cammina veramente sulle acque e ci ho messo dieci anni per vari motivi perché lavoro molta attività in italia all'estero ho poco tempo ecco perché filmo in macchina soprattutto perché li ho tempo quindi fammi tutte le domande del caso non ti faccio perdere più tempo visita la mia fan page su facebook ipnosi ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprologeassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesse del dottore claudio saracino e faccia il condivido con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli cambia la vita e visita anche i profili instagram e twitter bye